Perfetto ragazzi, siamo ancora all'interno dell'episodio speciale e vi inchiudo anche questa piccola parte, un atto dei creditori del nostro carissimo Strauss. Perfetto ragazzi, non prendi un pozzo per te stesso, se non hai il pieno, ti ti prendi Leopold Strauss. Non, non, non ho bisogno di più tempo. Non c'è tutti. C'è il casco per te? Tu vuoi un altro? Prendi, 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 prendi. Mi seguo al Campo Santo e mi stia vicino. Oh, questo non è vero. Chiedo, ti prendi il vostro money, ma... ...dora ci vediamo? Ce che non è vero è comprare il money che non puoi pagare. Penso, penso, penso che sei correttato, ma... ... questo non è vero, quello che stiamo facendo. Tu non sei la prima a mettere la mano in la boxe di collezione, e tu non sei la prima. Resti un po' più più facile a sapere che la città ha fatto più di più di più di questi ragazzi da lontano. Beh, come ho detto... ... la morale della situazione è un po' più confuso di quello. Dunque, andiamo al Campo Santo, quindi ragazzi, cimitero. Se andiamo in la città, e guardare la guardia. Beh, non è in là. 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 È in là Mrs. Claypole. Jesus! Ma c'è un po' di duele in là che non bisogna. Oh, damn! Ci sono un po' di persone qui. Oh, ho 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 ho. Ho ho ho. Guarda, guarda... qui c'è una vecchia signora usiamo le buone anche quella vecchia signora ok, torniamo da Gwyn allora, lui va a riesumare quella vecchia signora che ha i gioielli con questa seppellita e noi facciamo il pallo all'ingresso, quindi dobbiamo andare via la gente che cercherà di arrivare va per recuperare i soldi di Strauss che cosa dobbiamo fare quindi ragazzi vi ricordo che questo è il 24esimo episodio di Red Dead Redemption 2 quindi vediamo vediamo come avanza e tutto ah, arriva una sconosciuta vabbè, una è andata, dai quello sta disseperendo là, non lo vediamo da qui vabbè non arriva nessuno quindi dai va bene arrivano altri due no, non lo vediamo no, non lo vediamo Usare cattive Ah, io ti lascio andare e tu rispondi così? Prendi il cappello Ah, abbiamo anche un cappello nuovo, dai Controlla Queen C'era fatta intanto, va che buca che ha fatto Vedete, ha proprio aperto la barra E come vedete qua c'è il cadavere qui dentro Quindi, che è stato riesumato Dunque ragazzi, se vi è piaciuto l'episodio speciale Io vi saluto qui, vi ringrazio di essere stati con me E che dire, ci vediamo a breve, sempre qui sul canale A tra poco ragazzi E rieccoci ragazzi, siamo di nuovo in serra al nostro periodo E raggiungiamo Osea Matthews Che è qui che ci aspetta l'accampamento Abigail in realtà ci aveva detto solamente che Osea ci stava aspettando Quindi non vi ho clippato quella parte Ma non c'era nessun filmato ragazzi Ehi Arthur, cosa stai facendo? Sendendo la barra da dove è arrivato Cosa? Non ho fatto un mercato per questo Se hanno fatto, dovrebbero avere qualcuno per vendere C'è qualcosa che sembrava abbastanza lontano. Credo che ci prenderemo un negozio. Certo. Tu e Dutch hanno proprio fatto il tuo obiettivo quando hai acquistato. Ora io faccio il mio. Ok, devo andare ora. Ci sono i ragazzi anche! Buongiorno! Grazie, John! Ci vediamo dopo! Dutch ha chiesto di andare in qualcosa per farlo con i braithwaite, credo. Certo, ok. Ok, andiamo a andare in la braithwaite. Tu conosci i braithwaite? Sì, sono qui. Quindi, cosa stiamo facendo? Questa è la montagna che abbiamo preso dopo spostare la braithwaite, certo? Credo che i buoni cittadini che hanno preso i problemi di tornare i loro strumenti, devono avere alcuna recomposta, non? E è tempo che abbiamo fatto una introduzione formale. Come il Dutch ha detto. Ecco, queste sono due grandi vecchie plantazioni, e tutto ciò che mi sento è che si sbagliano così tanto, che non li vedono passi. Lo so, ho visto. Certo. 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 Una ragazza di braithwaite che portano un affare segreti. Certo. 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 anche qui ragazzi state attenti a come guidate il carro perché rischiate di fallire la missione se il carro va in una posizione dove non deve andare purtroppo ragazzi rdr2 è fatto così non ci possiamo fare assolutamente niente quindi anche qui andate piano anche io stesso andrò piano e cercherò di non sbagliare questa cosa ecco qua la 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 Cosa vedi questa roba? Un dollaro una botella? Dà 50 centi. È già la nostra! Guarda, c'è una riempione per trovare il progetto. La alternativa è andare a vendere a un posto. La alternativa è... Tu fai fuori. Ora... chi vuole fuori per una botella o due di liquido? Pagli il ragazzo. Cosa fare la visione? E... Scusate... Noi non lo prendiamo. Almeno non senza ordini. Oh, so che ti ha dato i tuoi ordini. L'ultimo Sheriff Gray. Sai cosa? Non lo voglio. In realtà, signor, ora puoi faremi un'interno. Ci sono un'altra 10 euro se faci. Pagliare il riempione per il riempione, andate all'interno per il riempione per il Mr. Gray e rende il riempione per libero. Oh! Pagliare! Credo che si chiamano questo un'esperienza promocionale. Ha! Come ti chiesti, madonna. Tu ragazzi vengono qualche volta e mi racconti come hai fatto. Potremmo giocare un pochino. Allora... La prossima stoppa, il salone di riempione. Ok ragazzi, andiamo al salone di Roots e portiamo i Moonshine. Sì, non mi sorprende. Allora, ho finito venduto i Cornwall. I sono stati vicino a 1000 euro. Quasi più, ma non davvero, ma non davvero, considerando il quanto freddo erano, specialmente dopo il il sango di Valentino. Non, non davvero. Apparante, Cornwall ha spostato molto di cash in i Pinkertons. Voglio mantenere il loro esforzo per andare a seguire i gans. Gans, come noi. Sì, non mi sorprende. Allora, questo potrebbe riuscire, ma tu e Dutch già abbiamo una cosa che succederà nella provincia, con il servizio. E' il signore Gray. E' tutto. Ora, ci siamo incerti con noi in questo sangue del sangue, ci siamo necessitati qualcosa. Non mi spiega, Dressel. Tu sai come mi sento a questo. Ah ragazzi, mi è uscito dalla modalità dinamica da solo, quindi proviamo a rientrare, ragazzi. Cominciano i bug, oserei dire. Ho risposto un attimo al messaggio di Gradi, Grapplace, mentre tenevo schiacciato il tasto X, ragazzi, il car è uscito dalla modalità dinamica da solo, io non ho toccato nulla. Quindi, come vedete, ogni tanto cominciano e partono i bug, ragazzi. Però, che dire, è comunque un gran titolo RDR, niente da dire. Per me non è mai stato un AAA, sono contento che Game of the Air abbia vinto God of War, in effetti, che abbiamo sempre trattato sul canale, lo trovate tra le playlist. Quindi, eccoci a Rhodes, togliamo la dinamica prima che succedano dei disastri. Infatti, guardate, stavamo sbagliando l'ingresso. Quindi, la dinamica non è più una modalità così tanto sicura, vedo. Prendiamo il Moonshine dal retro del carro. Prendiamo il Moonshine dal retro. Uno per ogni uno. Siamo in un nuovo trade di advertising, che è un'artforma americana di assicurazione di inserire le persone a comprare le cose corrette. Non lo so, un altro dollaro. Diciamo, diamo un'altra volta. Che cosa possiamo fare in un'altra volta? Vai dietro al bancone del Sahoun. Dobbiamo recitare la parte del fratello Shane. Ciao! Ciao! Sì! come up to the bar everybody come on come on a gift mountain it's a sin to allow to get vaccinated but I see a gift of course it's a gift that's so cool just keep it don't be shy boys I facciamo imbriacare tutti Ecco ragazzi un po' di problemi come vedete Solo mezz'ora Si è fatta sera Tutti imbriacchi come Antonino Carbonaro Porca miseria La festa è finita Ok Allora mettiamo le due pistole Carichiamo Finisce tutto a sparatorie Cosa può andare storto ragazzi Ok Fenton andiamo E' andato di sopra Eh ci abbiamo addosso Ecco E' andata di sopra Osea! Beh sì, ne citiamo fino alla fine, su Fenton! Abbiamo solo le pistole. Non ci si lascia, non ci si lascia. Qui c'è? Qui c'è? Qui c'è? Qui c'è? Qui c'è? Qu'è? Qu'è? È molto facile. È un'era. Qu'è? È un'era. La richiesta è ancora. È un'era. Qu'è? 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 ora ne abbiamo uno dietro forse si scusate se ho fatto tutto il giro il treno ci salva anche questa volta no sembra di no qua dietro a 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 ok ragazzi dunque abbiamo completato la nostra missione pubblicità una passione americana e che dire allora facciamo il punto della situazione ma dobbiamo farci un po' di strada ragazzi per entrambe le missioni una di Osea e una di John quindi ragazzi che dire una dai Braithwaite e una dai Grey quindi attenzione dobbiamo splittarci quindi io andrei a letto visto che è tardi qui nel gioco eh stasera poi devo uscire quindi nient'altro da dire e continuerò domani registrazioni quindi grazie di essere stati con me ragazzi ci vedremo a breve sul canale e a tra poco